Occhi azzurri, 1,75, 89, 58, 89 e 1991, questi sono i numeri di Martina Colombari. Eletta Miss Italia a soli 16 anni, inizia la sua carriera dal famoso concorso. Assoldata in una delle più famose agenzie di modelle, lavora con le maison più importanti della moda ed è fotografata da grandi fotografi. Il resto viene da sé, conduce programmi sportivi e debutta anche come attrice. Interpreta fiction famose come un medico in famiglia, diritto di difesa e la miniserie tv Fidati di me. Appassionata di fotografia, firma una serie di autoritratti e ne fa una mostra. Martina è impegnata socialmente da anni come volontaria ed è mamma di tanti bambini di cui si occupa con le onlus. Sposata con il calciatore Billy Costa Curta con il quale condivide la sua vita da 22 anni, mamma un po' apprensiva di Achille, 13 anni. Non esclude che l'esperienza di madre la vorrebbe ancora. Si sente fortunata e da quella coroncina posata sul suo capo accoglie la vita con generosità e non deve dimostrare nulla, semplicemente è.